Salve a tutti e bentornati su ItalianMaker Nel video di oggi, sempre qua in Norvegia, ne approfittiamo per recensire un prodotto che abbiamo acquistato al fine di fare il vlog di questa vacanza ovvero il gimbal motorizzato a tre assi un prodotto che ormai si sta diffondendo sempre di più e che permette di rendere molto più stabile e fluide le vostre riprese Permette infatti di poter camminare mentre ci si filma, si vlogga, in città o anche in montagna, ne passeggiate e avendo una ripresa non che saltella come siamo abituati facendo venire la nausea ma è molto molto fluida, quasi come se fosse stata fatta su un binario quindi è molto costante ed ha un look cinematografico alle vostre riprese Parliamo del prodotto Zhiyun Smoothie Q un prodotto che si trova su Amazon intorno ai 115€ che viene fornito con questo gimbal motorizzato più la sua custodia per trasportarlo che è rigida e fatta bene Questo prodotto è pensato iniziamente per gli smartphone infatti permette di montare smartphone fino alla dimensione di 6 pollici semplicemente montando così il vostro device si aggancia sopra come in un supporto d'auto nel caso del mio telefono che è molto grosso si dovrà andare ad allungare questo qua per stabilizzarlo e come potete vedere semplicemente accendendolo da uno dei pulsanti che dopo andrò a spiegare va a rendere il vostro device incredibilmente dritto e stabile andando a ammorbidire tutti i movimenti che fate infatti come potete vedere io lo abbasso, lo alzo e lui segue i miei movimenti addolcendoli questa qui è la modalità che ha infatti rimane un po' bloccata sul volto e ci permette se camminiamo tenendo il polso rivolto verso di noi di continuare a inquadrarci la seconda modalità che ha cliccando su questo pulsantino ci permette di utilizzare il joystick ovvero quindi ora potremo andare a usare il joystick per muovere il dispositivo molto comodo ad esempio se lo montiamo sul cavalletto che è possibile grazie all'attacco della vite inferiore andare a fare una ripresa di un paesaggio in modo molto fluido come potete vedere la rotazione è più stabile rispetto alla nostra mano che non sarà mai costante nei movimenti ha due led, uno che indicano se è in carica e l'altro che indica quanto è carico e se è connesso al bluetooth infatti possiede un bluetooth in cui è possibile collegarlo col telefono per fare tutte le operazioni di calibrazione o per poter riprendere dall'applicazione infatti se è connesso si può utilizzare il pulsante per scattare o iniziare a registrare i video e lo zoom che andrà a eseguire uno zoom ovviamente digitale sul dispositivo non consigliamo di utilizzare l'app perché la ripresa non è al livello di qualità dell'applicazione della fotocamera del vostro telefono quindi consigliamo di non collegarlo col bluetooth anche così risparmia batteria batteria che dovrebbe durare circa un 10-12 ore e che è possibile ricaricare da qua e tra l'altro è possibile utilizzare come power bank attraverso la porta qui quindi potete ricaricare il vostro device mentre filmate questo prodotto è il concorrente del DJI Osmo Mobile che però costa quasi il doppio quindi se volete risparmiare qualcosina rispetto al DJI è un ottimo prodotto presenta inoltre anche la modalità verticale molto utile per chi utilizza molto Instagram perché infatti basta allentare questa vite che trovate sul retro per poter ruotare il device si gira, si stringe di nuovo e ora si può montare il telefono in modalità verticale in questo modo specialmente se lo utilizzate per Instagram potete andare in giro filmarvi con il telefono in modalità verticale come potete vedere questo prodotto si può utilizzare anche con la GoPro non è stato pensato per la GoPro quindi di default non ci sta in questo slitta bisogna comprare un accessorio a parte che è questo qui ovvero è una piastra che permette di montare qui la GoPro sotto queste viti per poi andare a stringerle e dall'altro lato avrà questa parte un pochino più pesante per fare appunto da bilanciamento del peso basta infatti proprio come per il telefono montare questo supporto qua con qua la GoPro montata e avremo la stessa cosa di filmare col telefono ma con il gimbal perché appunto questi tre motori che sono 1, 2 e 3 andranno a compensare tutti i nostri movimenti rendendoli molto più morbidi vi rimando al video vlog del nostro viaggio in Norvegia in cui la maggior parte delle riprese sono state fatte con la GoPro montata su questo stabilizzatore qui quindi potete vedere lì come funziona e quanto rende più fluida e morbida la ripresa per questa recensione le Ziu Yun, Smoti Q è tutto, un saluto dall'Italian Maker